bello ragazzi bisibletto andiamo scegliamo un profilo facciamo facile bocca all'ape bellissimo allora diventiamo per una sera delle apine a pette a potte a puzze sveglia piccolina guarda ma ciao ma ciao app e miele giuseppe nooo per prima cosa ti insegno a volare questo si chiama i biscuit ok su giù avanti destra sinistra ok ah non posso andare qua no lì è molto vai su vai wow che roba ora vai nella cella della costruzione ok cerca i segnalini doll mostrano sempre la strada ok allora contassegno da lato ok devo andare la ok abbiamo un posto speciale dove puoi imparare come essere un'ape ok passa per questa crepa passa per questa crepa passa per questa crepa ok terrificantina ok 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 il pollinozzo ok 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 acquisto ok ehi andiamo 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 andiamo! quanti ne devo prendere? 20 cazzis oooh oooh Ce n'è uno che è qua sopra. Ecco qua. Un qua ce n'è uno. Ah, ripiede uno. Dai, alzo, chi è aperta? 18, 19, ma ne manca uno. Ai 20. Oh, parla con Alice. E tu cazzo sta, Alice. Alice. Qua dove si va? Ma è stato aperito? Ma come ho fatto bene? Dove Alice? Alice, ma che la fa? Il mondo è pieno di fiori diversi. E noi, con i nostri occhi, li vediamo di colori diversi. Hmm. Ok. E' un refresh. Oh, caspita. Punti di vista, un bel troppo inizio. E' un refresh. Io non sono mai stato un'ape. E' la prima volta che sono un'ape. Ok. Andiamo da lei. Ottimo lavoro, sorellina. Ora sei carica per l'aperazzo. Usiamo l'aperazzo come potenziatore. Per volare più velocemente. Prova. Ti sentirai un siluolo. L'aperazzo. E' proprio un stucchiato l'aperazzo. Usiamo un'aperazzo. Allora, che devo qua? Devo mangiare? Sì, bisogna mangiare. Così si carica la barra gialla. E' proprio un'aperazzo come potenziatore. E' proprio un'aperazzo come potenziatore. E' proprio un'aperazzo come potenziatore. Sì. Un'aperazzo come potenziatore. Ma se l'aperazzo è pronto. Con che tasto lo devo fare? Ah, l'aperazzo è su questo qui magari. Vediamo. Lo schiacciamo tutto, ragazzi. Forse è qui? Non credo. Ma aveva scritto il tutorial come cazzo ti faceva l'aperazzo? Stavo a sentire la barra. Ti scia? Potrebbe essere la barra gialla, ne? Non un'aperazzo. Non un'aperazzo. Una barra gialla, è? Si, il fiore. Non un'aperazzo. Sì. E sono d'accordo con te. basta che mi dici come si va siamo tutti d'accordo pronto? i pollini eh? vero? sta pollinando avanti su, giù ah prima di raccoglierne altro devo portare questo all'alveare i pollini sono più raccogliati adesso deve andare all'alveare ha detto? si già raga, non ascolto mai quello che dici il gioco grazie infatti ok usiamo stuccazz da peraz x non fa niente allora vediamo c'è un tutorial no gestazione x non fa un gaz forse il cerchio triangolo cosa fa il triangolo? questo punge wow ho tantissimo polline prima di raccoglierne altro devo portare questo all'alveare come faccio? si ma come devono fare un uraz? l'uraz? ooooh! è le due penso si 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 ecco è così alle due due volte R1 devo scaricare questa roba all'alveare e parliamo con una lecce? ma non potremmo chiamarla gentrude un'ape come si deve sa come depositare il polline che ha racconto forse forse perchè non sono mai stato ape? poi vedi tu eh perchè ho anche i miei dubbi come vediamo come si deve portare il polline? ho fatto un bel lavoro ho raccolto un sacco di polline si è ora di portarlo all'alveare all'alveare oh angolino ok ah molto semplice vabbè accogliamo un miliardesimo di polline parla con all'ice se la chiamiamo all'ice se la chiamiamo all'ice un po' in americano si chiama meglio? uh guarda come fila non ho preso neanche uno però è proprio filoso va che roba va impapo al cervello così fantastico ora sei pronto segui il tunnel per tornare all'alveare va bene sono d'accordo su cazzo il tunnel eccolo il tunnel boom bella botta botta sui denti oh dai dai non fare così tre trofei uno dietro l'altro wow cibacciompa guarda una città di 25 km stica viaggiano eh le appette le cose essenziali le so sono pronte a iniziare le nuove missioni per prima cosa dovrei far visita alla mamma cioè la regina oh no guarda guarda allora dove sta la regina questo che cazzo è? beh devi avere una gran voglia di metterti al lavoro sì ma non so cosa devo fare ci sono tanti ruoli nell'alveare esploratrici guardie allevatrici ma la maggior parte di noi sono ampi da miele come me wow posso scegliere cosa fare no allora vediamo cosa devo fare ehi ti tieni impegnata oh ma cazzo piglio per il culo non lo posso svegli oh 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 eccola ma è vero che è cinquentesca fine è grande è grande è grande è casile loro sono casile ca miseria ferma non muoverti perché ti vuoi avvicinare alla nostra regina silenzio guardia lasciate che la mia nuova nata si avvicini a me ma io lo chiamavo Marco Drano bene piccola ora sei un'ape da miele vai nel mondo raccogli il polline per l'alveare ah prima iniziamo la gavetta come ape da miele dopo pian pianino man mano che andiamo avanti raghi facciamo tutti i vari cose fighi diventiamo cecchino diventiamo massacratore questo che è oh è uno scorpione ma cos'è che è? che animale è questo qua? le apie possono posarsi su circa 4 milioni di fiori oh la madonna oh la madonna 4 mila fiori per un chilo? no e poi non ce lo beviamo nel caffè al latte dappertutto così come eh è proprio un dito in culo fare il miele bravi api è un cane? no oh 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 che è? ah polline si è tutta un po' rincoglionita è rincoglionita wow quanto traffico devo stare più attenta eh va bene raccogliamo un po' di polline questo è un bordello eh forse è che dobbiamo posarci su ognuno ma loro si posano su ogni fiorellino eh che coglioni mi chiami papà il cervello già così vediamo oh 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 questo punto è giusto speriamo di no via se ne ha utilizzato il gioco non voglio già far morire la gente vai lavanda ci sono anche vari fiori primula bello sta cosa vedi? hai sbloccato buca neve quindi di fianco sono vari fiori tipo collezionabili dente di leone sono pieno adesso posso fare il turbo metto i denti ok andiamo wow ho tantissimo polline prima di raccoglierne altro devo portare questo all'alveare in qui no mi sa che sto a usci mi sa che ho sbagliato eh sì ho sbagliato ho sbagliato eh ho sbagliato 20.000 spessi di api la maggior parte non è ancora oh qui sarà qui oh è pieno è un alveare intero di 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 bielosso no no allora ragazzi il gioco è bello vero ragazzi bello il gioco è bello però diciamo che ho già lavorato abbastanza per oggi quindi non ci voglia di prendere altro miele io vi saluto Marco Drums Games Channel vi saluta il grande Zane Boy e la grande Bragadi vi salutano e ci vediamo ciao 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 e ci vediamo al prossimo video con questo gioco strafichissimo che è il simulatore di a posse va bene ragazzi Marco Drums Games Channel è tutto vi raccomando di seguire su Facebook Twitter Instagram TikTok Twitch non fare casino con la sedia mentre io parlo grazie Leo e di mettermi un bel mi piace i commenti e la campanellina su YouTube e Twitch alla prossima ciao ragazzi da Marco Drums Games ciao ciao